Tre partite alla fine della stagione regolare, tre partite tutte d'un fiato da vivere per Montecatini. La prima di queste è una super partita, domenica al Palatermi arriva la corazzata a Frentina Basket, arrivano Andrea Nicolai e Diego Banti, due che al Palatermi hanno scorazzato come nel giardino di casa. Ne parliamo con Guidomeni, il capitano di Montecatini, una Montecatini che affronterà queste tre partite a testa alta e soprattutto questa di domenica con grande concentrazione e determinazione per cercare di fare l'impresa. Sicuramente sono due squadre costruite per obiettivi diversi, sicuramente la loro è una squadra molto più esperta, una squadra forse anche più lunga della nostra. Detto questo noi durante tutto l'anno abbiamo dimostrato comunque di poter competere anche con le prime della classe, e loro sicuramente lo sono. Ci auguriamo che per una volta questo palazzetto sia veramente un fattore anche per noi e che ci dia una spinta ulteriore contro un'avversale sicuramente di primissima fascia. Domenica cosa dovrete fare bene per provare a mettere un po' di confusione nel sistema di Andrea Nicolai? Sicuramente dovremo difendere sopra gli standard abituali, perché loro sono il migliore attacco di questo campionato, viaggiano a più di 80 punti di media partita, per cui un motivo ci sarà. Direi che partendo da questo dato non si può che dire che la difesa sarà la nostra base di partenza, sulla quale costruire la partita di domenica prossima.